100 try così Minchia speriamo di no Facciamo 300 punti 100 try così E' un po' sad se succede Il tank su Rigoro su Dynamic punch Sei di difesa bro Non benissimo Metronomo attenzione Attenzione che ha metronomo Attenzione che ha metronomo Il cuore No bro però che palle Cristo Ok Out of lab Merda questa cuore Te lo dico Mega punch Meglio di vital Però mi ha 7 difesa Come facciamo a far metronomo Con questo Scoutiamo Poi valutiamo Via vital Cioè il peccato è la difesa Che ci rende un po' impossibile Provare la fatica Secondo me Intanto auto flab Con questo prima Scoutiamo E tutto Perché abbiamo 23 di speed Cioè non ha senso Non vederli pokemon Più che altro La fatica di metronomo La vorrei provare Però cazzo Abbiamo 7 di difesa Che la rende abbastanza Infattibile Secondo me Cioè comunque Un minimo di difesa La devi avere Per provarla C'è Bulbasaur Merda E la bolla Tirerei blind Non me l'ha tirata La ball blind Qua Nice Vediamo Ragazzi Abbiamo 7 di difesa Ci moriamo Dal primo pokemon Che ci tocca Questo è un tank Bel tank Non è terribile Un bel tank Questo Rockhead Merda Takedown Con Rockhead Cazzo Bello Takedown Con Rockhead Bello Ha senso Merda Avesse Voltaic Con questo Questo è un Questo è un Tancone bro È un Tancone Se non altro È buono Questo per scautare Er Tancone Oh madre Ci ha tolto Due di Psybeam Al tre Non è poco bro Abbiamo 27 Di difesa Merda C'è il Pertiani Merda C'è il Pertiani Do Devo provare A prendere il Pertiani Secondo me È un po' Troppo tank Sta foca Ragazzi Avessimo Una mossa Mossa buona Speciale Ti dico Anche se L'attacco speciale Bassino Lo trasterei Però così C'è E letteralmente Impariamo Waterspawn Waterpulse Al 13 Allora Ti dico Fratelli Altrimenti Secondo me Qua è Il Pertiani No High Rapples Si mi pare Però non ha senso Usarlo qua Per cercarlo All'otto Perché metti Che Swampert Alentino Lo vogliamo Trastare Dopo dobbiamo Andare nell'erba Di là Dopo che livelliamo È meglio usarlo L'High Rapples Che qua Cattura facilitata Capo Vediamo 40 HP Stardy Thief Psybeam Sandstorm Stardy Ok Non può morire Da un Kpo Hit Buo è da provare Questo Interessante Sto Pokémon Impara un fracco Di mosse Lui Ne impara 5 prebrock Quindi potrebbe Non essere Bad Questo si trasta Non è il Nuts Ma non è male Secondo me Ci si impara Un paio Di mosse Umane E questo Non è brutto Va bene Capo Sostituto È meglio Di Safeguard Vero Fa un cagare Non le usi mai La Kaiz Però pensi È meglio Anche se entrambi Ripeto Non sono buone Ok È ok Comunque C'è Outspeed Dalla maggior parte Di Pokémon Tecnicamente Poi magari Psybeam Twister Più veloce lui Questo rompe Farò i Psybeam Again Se lui si blocca Su Twister Non è male Per noi Aerial Ace Ci toglie un po' Ok Nice Si va al 13 Direi Impariamo la mossa Al 15 Di Hugong Eh ragazzi Io Farò i Psybeam Qua Cos'è che ho provato A fare Supersonic Psybeam Again Pulito Nice La regala 4x Ovvio che è un problema Però che costo Abbia la 4x Però abbiamo 5 resistenza In immunità C'è Voglio dire Chiaro che Lovely Kiss Non è male Lovely Kiss È buono Il posto di sostituto Sand Forse Abbiamo il cover Jeshi Ninja Tolgo il sostituto Non lo faccio Letteralmente Mai Madonna Quanto cazzo Mi leva Brother Secondo me Secondo me Psybeam Into Psybeam Qua Lovely Kiss A 70 Cura Sì Merda Oh madre Questo non lo tiro Più giù Il droga Il droga non è ricarica no? Quanto ci ha tolto 19 La sand è finita ragazzi La sand è finita ora Allora lui ora ricarica Quindi secondo me Ora Da crit moriamo Sì Merda mi ha preso il joystick Due volte a caso Quello che posso provare a fare È usare una potion Però minchia Cioè muoio solo dal crit di idrocannone Che coglioni Cazzo Ora faccio sand Secondo me Ma raga La sand è meglio da fare Di tiff No? Ora faccio tiff Non gli toglio nulla Secondo me Tiff into tiff Raga Cioè Ok Tecnica Buona 18 Ok Ok Psybeam Secondo me Cos'è che ha fatto Ipnosi Ok Non riesco ad andare Al 20 Subito Vero Deveva far swipe Maremma Ok Forse è solo la canzone Che è più alta Facciamo arrivare la prossima Allora Psybeam secondo me Ok Numel Io farei Psybeam bro Crit No Non lo ammazzo Vero con uno Psybeam solo Madonna Che coglioni bro Secondo me Secondo me Non lo ammazzo L'ho crittato Eh ragazzi L'ho crittato io Secondo me Uno non ammazza qua Secondo me Faccio anche Pozza E poi vado Di Psybeam Sperando che lui Non si sveglie Ora Nice Pulito qua Conversion No bro Cioè La cosa forte di Swampert È il typing Quindi non voglio conversion Qua Perché abbiamo solo una 4x Venga Quattro mosse di merda Imparate Che sfiga Cazzo Aerodactyl Allora Io lo sweet kisserai subito Lo lovely kisserai subito Nel dubbio Ha senso piazzare la sand Lui non prende danno dalla sand Giusto Che sfiga cazzo raga Comunque Io proverai Psybeam Qua 21 Arbok Allora Proviamo Slips di lui Perché non ha detto Che lo shottiamo Però Bob Psybeam Tecnicamente Viene 56 D'attacco speciale Lui fa wish Che è ok Per noi Plasl Ecco su Plasl Io farei il kiss Tattico Perché non sappiamo Quante difese ha Secondo me Qua va Va fatto Lo lovely kiss 22 Illuminize Io farei il kiss Su Illuminize Ragazzi Ok Dai cavalli Crederci Out of rock Didattico Del thunder Così Proprio lui Crederci così Cavalli Per voi Per i ragazzi Out of rock Tecnico Del thunder Con lo swampert Bacini agli haters Bacini a ways Out of rock Tecnico Del thunder Pazzesco brother A godere qua A godere qua Out of rock Out of rock Elegante Di qualità Signori Out of rock Elegante Elegante Drill pack Merda È mia sorella Drill pack Se sono able Dimmi che sono able Merda È mia sorella Drill pack Eable Merda È mia sorella Drill pack Eable Scherzi Via send Una mossa decente Cazzo Ne abbiamo imparate Cinque merda Solidi Signori Out of rock Del thunder Yanis Da ush Solidi Andiamo capo Secondo me ci sta A farne uno Per livellare Un attimo Questo qua Ha due pokemon Tecnicamente A livello basso Stavo dicendo Ha molta difesa Magari ha poca difesa Speciale Socia ragazzi Comincia male Che sfiga Cristo Andiamo a farli Obbligatori Si è girato All'acchino Non è anche corso Sai Secondo me Ok 28 Buono andare Un po' più livellati Per il prossimo Pigliamosche Vediamo Vibrava Ora non più XD Morning sun Side beam Full heal Carino il full heal In che senso Perché non sconfiggio Perché prima si fanno Quegli obbligatori Rega Invece Facciamo resistenza Maggiormente Conversion Steel type Psy beam Secondo me Tiff non Kill Psy beam Per forza Non è di contatto Kill Ok Ci siamo presi La mossa d'erba Ci ha tolto 20 di vita Da un numel Dipende anche Poi le stats Che ha il pokemon Che ce la fa Rosberry Ok Paio di berry Ci servono cure Però Sì veramente Vergognoso Stiamo avendo Una sfiga Vecchio dopo il Trae 2-3-2 Da Lega Io resto dei try Terribili È un luck Disumano Mi sono rotto Un po' i coglioni Di aver sfiga Onestamente Brother Psy beam Non lo sto usando Deryl pack Ma perché di contatto Proviamo Deryl pack C'è tecnicamente Shot Anche quel Variati casi Ok Come si è messo 33 Boh Finchè ti rian dritto Ok Cos'è che aveva Trace Quindi a Stardic Ok Lei Rompeva il cazzo Mi ricordo Resisteva Lei No Forse non Ok Vediamo Deryl pack 30 Buono Deryl pack Solido Sì sì Però l'avevo già beccata Anche Staran Mantyna Vediamo Sharpido Ti devo dare il peccare Brother Forse Deryl pack Per copie PP Super F Merda Crit Perché Stardy In Gen 3 Protegge Da esplosione Queste mosse Non protegge Da tutto 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 Alteria Garage Garage fa finire PP Della prossima Mossa No Cos'è che fa Cos'è Garage If If the Feint Non voglio Non voglio fargli fare Un'altra mossa Se mi piazza La mossa D'erba Muoio Scusi Faccio Lovely Io comunque Tiff Dopo Dopo Li perdi PP Perché Cambia solo Quando lui Switch Ha mossa Io lo dovrò Killare Scusatemi Non mi va Di fargli fare Un'altra mossa Per non perdere PP Se mi piazza Una mossa D'erba Muoio Ma perché Devo rischiare Non sto perdendo I PP Di Tiff Non mi va Di rischiare Ma perché Broder Se mi fanno Una mossa D'erba Vado al bar Ma perché Devo rischiare Non ho capito Che merda Ste mosse Cristo Moves Ridicolo Grillpack Il bell Quanto manca Per il full clear Secondo me Ragazzi Non ce la faccio Secondo me Il full clear Non si fa qua È troppo rischi Mancano tre trainer Outdoor Rimpax Saibim Non abbiamo robe Per PP Però abbiamo ancora 5-5 Proviamo Dai Vediamo È tecnicamente Questo che manca Se non erro Tecnicamente Rhyron Rhyron Psybeam Io farei Psybeam Probabilmente Perché non è di contatto Quindi C'è Se lui ha un'ability Poi di contatto È peggio È vero che ho tre PP Ma manca un Pokémon Quindi secondo me È più tecnico Agire in questa maniera Didattica Ti dico la verità Broder Lo so ragazzi Che ogni tanto Flash Non so perché oggi Faccio così Mac Psybeam No Broder Ok Full clear fatto Signori Con la scopetta Il full clear With the scopetta Broder Con la scopetta Full clear Buono Buono capo Full clear Ora dobbiamo correre Per gli height Siamo solidi Ragazzi Siamo solidi Buono capo Buono capo Buono capo Buono capo Buono capo Buono capo Buono capo